Raffaella, parliamo un attimo dei premi che hai ricevuto e che stai ricevendo. Devo dire che sei all'attenzione con la tua scrittura. Sì, ne sto ricevendo tanti, devo dire in modo inaspettato, perché non mi aspettavo che la gente mi seguisse, che apprezzasse soprattutto. E poi il fatto di partecipare ai concorsi è stato un caso, cioè proprio un qualcosa anche a esso inaspettato, che secondo me le cose inaspettate sono sempre le più belle, quindi mi trovai a partecipare a un concorso tre anni fa e poi invece è stato, sai, un salire quei gradini in maniera vertiginosa, quindi premi, coppe, meriti, infatti l'ultimo è stato premiato in tutta Italia per la narrativa, un mini racconto di vita vera, vita vissuta, che racconta di me da bambina nel centro storico e sono arrivata al primo posto in tutta Italia, quindi quando me lo disse la mia amica, io dico, ma sei sicuro stai parlando di me? E lei tutta felice mi disse che era proprio così. Quindi dobbiamo dire che hai imboccato la strada giusta? Ho imboccato la strada che non pensavo proprio di imboccare, perché la mia vita era già inquadrata secondo me, perché avendo cinque figli, nipoti, lavoro, insomma, la casa da gestire e pensieri dei figli come tu ben sai, e quindi i miei progetti futuri erano molto diversi, anche questi, anche il progetto è inaspettato, i progetti sono anch'essi inaspettati, quindi è tutto felice, quindi accolgo questo fuori programma della mia vita, del mio quotidiano, lo apprezzo e cerco di salire sempre di più questa piramide che mi attrae fortemente. A che altezza sei arrivata della piramide? Ti dirò, ho iniziato semplicemente, come ti dicevo poc'anzi, con una poesia molto semplice che scrissi in un periodo che tu sai benissimo di malattie in un ospedale, e poi da lì ho iniziato a scrivere anche piccoli percorsi di vita vissuta, e quindi diciamo che la piramide, sono arrivata alla punta della piramide, proprio sono salita tanto e non me l'aspettavo, ripeto sempre questa parola, perché effettivamente è quello che provo, che vivo l'inaspettato.